Un'amicizia lunga 25 anni vale una grande festa. Per celebrare l'anniversario del suo ingresso negli Emirati Arabi Uniti, Ferrari ha deciso di organizzare la prima cavalcade internazionale nella regione, radunando circa 100 vetture con clienti provenienti da 20 diversi paesi. Giunta alla sua terza edizione, Cavalcade International è un'opportunità unica per vivere il piacere di guidare una Ferrari, lungo percorsi attentamente studiati per esaltarne le prestazioni. Uno spettacolo viaggiante di cui questi modelli esclusivi sono i protagonisti indiscussi. L'itinerario di 1200 km, completato in tre giorni, ha abbracciato idealmente le bellezze più preziose degli Emirati. A partire da Dubai, le Ferrari hanno percorso affascinanti strade nel deserto, hanno scalato i tornanti del monte Jabal Jais e si sono disposte in parata ai piedi del Buri Khalifa, illuminato con il celebre rosso per l'occasione. Il corteo ha fatto poi tappa in altri luoghi simbolo del paese, come la Sheikh Zayed Grand Mosque. Il divertimento e l'adrenalina non sono mancati al Dubai Autodroma, scelto per l'attività su pista ai massimi giri, e al Ferrari World Abu Dhabi, il parco divertimenti più grande della regione, che si ispira proprio alle emozioni suscitate dal marchio italiano.